La situazione è notevolmente peggiorata, perciò siamo qui. Allora intanto appena siamo arrivati, siamo entrati nel locale Contatori, abbiamo visto le cose allarmanti, allacci completamente abusivi ed evidenti alla corrente, alla cabina, ma addirittura si allacciano anche, abbiamo scoperto, all'antenna che sta sopra al terrazzo, abusivamente. Qui ci sono anche allacci di acqua abusiva, allacci al gas e quant'altro pericolosi, ma quello che abbiamo trovato sono discariche enormi a cielo aperto. All'interno dei piani addirittura per la prima volta non siamo riusciti ad accedere al terrazzo, l'accesso è precluso da una catasta immensa di immondizia. Avete visto le immagini parlano da solo, ma non solo, qui si continua a delinquere, questo palazzo è rimasto quasi completamente in mano ai clan, mentre prima, perché la situazione è peggiorata, mentre prima c'erano le famiglie oneste, adesso sono andate tutte via, quindi qui sono rimasti delinquenti, criminali, pluri pregiudicati, il 99%, qualche famiglia è ancora rimasta. Quindi il palazzo è completamente in mano ai clan, ricordiamo che qui sono stati trovati proiettili, sono stati trovati pistole, si spaccia droga giorno e notte, ci segnalano anche qualche appartamento dove si consumano atti illeciti, anche esercizio della prostituzione e tante altre cose ci segnalano i cittadini, non riescono a dormire più una notte per la situazione catastrofe. Io ho la ricetta in tasca, cosa bisognerebbe fare? Semplicissimo, qui basterebbe le due amministrazioni comunali congiunte, Pescara e Montesilvano, perché la proprietà del Comune di Pescara, a maggior parte insiste sul territorio di Montesilvano, dovrebbero emettere ordinanze condigibili e urgenti di sgombero immediato di tutti gli occupati, perché si può fare per questioni di igiene e sicurezza pubblica, poi transennare il palazzo, montare il cantiere, una vigilanza H24, anche privata, fino a quando non si fa la riqualificazione e la demolizione, altrimenti rientrano dentro. Cosa invece si sta facendo? Si stanno facendo degli sfratti spot, significa oggi sfratto un abusivo, domani ne rientrano due, si stanno spendendo in vano soldi pubblici e non si risolverà mai il problema. Quindi mi auguro che adesso mi ascoltino davvero per risolvere questo problema tutela la gente onesta di questo quartiere.